Buonasera dal Palatiziano, terzo quarto che si gioca da un minuto, il punteggio vede la Montepaschi Siena in vantaggio sulla Cea Roma di nove punti, 35 a 26, 33 a 24 all'intervallo lungo, ora una schiacciata di Ortner che ha disputato uno straordinario primo quarto, dieci punti per il centro austria con i primi dieci minuti, è stato letteralmente dominante nei confronti di Gagni Laval che non è riuscito proprio a tenere la scuola. Roma a dir la verità ha iniziato anche discretamente, la partita sempre in vantaggio seppur minimo, massimo vantaggio sulle 18 a 14, poi 18 a 16 al termine del primo quarto ma nel secondo quarto la partita è radicalmente cambiata con la difesa a zona di Siena che ha mandato letteralmente in tilt l'attacco di Roma, Roma non ha segnato per sei minuti, soltanto due canesti dal campo, due su undici nei secondi dieci e minuto. da Tome a litigare con il canestro soprattutto da tre, zero su quattro e alla fine 33 a 24 appunto per Siena da Tome, arresto e tiro da due punti, il canestro di Gigi da Tome, 35 Siena, 28 Roma, non mancano sette minuti e cinquanta secondi al termine della partita, ci sono esattamente otto punti per da Tome, otto per Laval per quanto riguarda Roma, dall'altra parte 12 di Ortner, nel frattempo ancora Ortner va a schiacciare indisturbato, non c'è difesa da parte di Laval e allora Siena ne approfitta per servire sotto il destro il suo centro austriaco, più nove ancora per i campioni d'Italia, Bobby Brown, solo tre punti per lui, primo canestro della partita lo ha realizzato a metà del secondo quarto, altra giocata splendida, gioco a due, alto basso fra Bobby Brown e Benjamin Ortner, altri due punti per Ortner che arriva a quota 18, massimo vantaggio Siena, 39 a 28 per la Montapaschi con da Tome, incursione di da Tome, appoggio a canestro errore, rimbalzo di Laval, appoggio a segno di Laval, 39 a 30 Roma in questo momento, è solo Laval in attacco che riesce a catturare qualche rimbalzo l'attacco significativo, Daniel Hackett, già quattro falli spesi su di lui, forse ce n'è, c'era il quinto non fischiato dagli arbitri, la carambola premia però Siena con Sanichizze, segna Sanichizze, fallo di da Tome, tiro libero supplementare e Siena va via, 41 a 30, più 11, 5 e 57 a termine del terzo quarto, tema Maurizio Ruggeri. Attenzione perché c'è una fiammata della Virtus Roma, 1 e 0, 8, al termine del terzo quarto, meno 5, 48 Siena, 43 Roma, un tiro libero su due di Sissima, prima c'è stata dopo la tripla di da Tome, un'altra tripla di Phil Goss, 5 di vantaggio per Siena, ultimo minuto del terzo quarto, Daniel Hackett, il blocco di Kangur, ancora Hackett, porta spasso come al solito alla difesa romana, pallone per Brown, incursione di Brown, sotto mano rovesciato, vediamo un po' fischio degli arbitri, canestro annullato, infrazione di passi, palla persa per Siena, sentite un po' come il pubblico del palatiziano ha accolto questa infrazione di passi, questa decisione del primo arbitro Luigi e la Monica, palla persa per Siena, 48 a 43 per la Montepaschi sulla Cea Virtus Roma che dà la sensazione ora di reagire, vediamo da Tome, ancora difesa a zona di Siena, sempre questa 2-3 per la Montepaschi, difesa a zona che si alterna, con una 3-2 da Tome, Bobby Jones, Tercole, Tercole, da 3 punti, Tercole, segna Lorenzo Tercole, 2 di vantaggio per Siena, solo 2 di vantaggio, è il momento migliore per Roma della partita, 48 a 46, Lorenzo Tercole, uno dei due ex Montepaschi insieme a Gigi da Tome, 16 secondi, al termine del terzo quarto con Hackett, il palleggio, Siena non può controllare il pallone fino all'ultimo, scarico per Brown, per Thomas S, da 3, Thomas S! S, l'esperienza al servizio della menzana, canestro pesantissimo da Tome da metà capo, ci prova, prende il tabellone e poi ferro e si chiude qui, il terzo quarto, pesa come un macigno, il canestro di Thomas S, da 3 punti che ha interrotto la rimonta della Virtus Roma, comunque 5 punti di vantaggio per Siena, 51 Siena, 46 Roma, al termine del terzo quarto, dunque, ultimo mini intervallo al paladiziano, 7,45, al termine della partita Montepaschi, Siena, avanti di 2 su Roma, 53 a 51, pareggio di da Tome, 53 pari, è un momento positivo per Roma, 6,47 al termine, Tercole, Bobby Jones potrebbe provare la tripla, e qui c'è il fallo in difesa perché in effetti Carraretto era in movimento, un po' tagliato la strada a Bobby Jones e allora l'arbitro, la Monica, ha fischiato il fallo al capitano Menzanino, è il secondo fallo fischiato a Marco Carraretto, 6,43 a termine, rientro a Phil Goss, esce Bobby Jones, dunque i tiratori di Roma in campo, vedremo un po', se questo è un momento della partita nel quale Marco Calvani ha deciso di provare a battere Siena con i tiri da 3, ma intanto pallone per Gani Laval, rischia di perdere palla a Roma, da Tome, quasi in frazione di campo, con una prudezza riesce a restituire palla a Taylor, da 3 punti, Taylor, errore, errore di Taylor, rimbalzo lungo da parte di David Moss, Roma ha sbagliato la tripla del più 3, 6,20 a termine, con le due squadre in perfetta parità e con Siena in attacco, Bobby Brown mantiene vivo il palleggio, c'è il blocco di Rez, ancora Brown, c'è il taglio sotto il ganaggio di Carraretto, pallone per Rez, azione di Rez che rischia di perdere palla e la perde, brutto controllo del pallone da parte di Rez, da Tome, incontro il piede, Laval, e questo è il marco di fabbrica, uno dei piatti prelibati di Roma, la layup per Gani Laval, ed è sorpasso, 55 a Roma, 53 a Siena, 5,53 al termine della partita, la risposta a Sienese con Carraretto in post basso addirittura, pallone per Razic, arresto e tiro, non è marcato, sbaglia, un rigore, Razic, rimbalzo di Laval, che ora allarga le braccia per stradominare sotto canestro, Taylor, in palleggio, su di lui c'è Razic, riposo per Daniel Hackett, intanto sul cubo di cambiorte, vediamo Taylor, sbaglia da due, Laval, Laval, alto schiacciata, rimbalzo pezzino su Rez ed eccolo qui, il time out inevitabile, chiamato da Luca Banchi perché Roma è a più 4, 57 a 53, 5,19 al termine della partita, più uno Siena, 61 a 60, con 2,41 sul cronometro, Roma si gioca tutto in questi ultimi due minuti e mezzo in pratica, perché qualora dovesse perdere a questo punto, a quel punto la serie sarebbe, non dico finita, ma quasi, Laval ha la meglio su Ortner e riporta Roma avanti, 62 a 61, mi sembra evidente ormai, lo schema di Roma, palla sotto a Gani-Laval, 19 punti, anche perché i lunghi di Siena sono carichi di falli, vediamo Hackett, recupera il pallone dopo averlo perso momentaneamente, ancora Hackett col piede perno, da Tome sulla linea di passaggio, vola in contropiede, da Tome fino al fondo, cosa ha fatto Gigi da Tome? è staccato praticamente a 3-4 metri dal canestro e ad una mano ha infiodato una scacciata da NBA e sarebbe anche il giusto risultato per da Tome, andare in NBA dopo aver fatto questo gesto tecnico impressionante, 1,50 più 3 Roma, 62 a 59, 90 secondi al termine, 3 di vantaggio per la formazione capitolina, Taylor, pallone pesantissimo questo, Taylor, Taylor fino in fondo, lo scarico da Tome, piazzato da 3 punti, da Tome errorissimo, perché ha sbagliato di non poco, non ha preso nemmeno il ferro da Tome, incredibile, Cararetto, Moss, scarico, Brown, rischia di pagare Roma, ma sbaglia Brown, ribalzo di da Tome, incredibile errore di da Tome da 3 poco fa, eccolo da Tome, il ritmo, questa volta rinuncia alla tripa, Bobby Jones, da 3 punti, Jones, sbaglia, ribalzo di Ortener, 60 secondi al termine, finale clamoroso al palloneziano, convulso, Bobby Brown, si vede la difesa, c'è il fallo, c'è il fallo di Phil Goss, Brown in lunetta con i tiri liberi, beh, indubbiamente, vedere sbagliare un tiro libero da Bobby Brown, non è cosa semplicissima, infatti sbaglia Bobby Brown, scusate, realizza Bobby Brown, il primo tiro libero, vediamo con il secondo, Brown, e lo sbaglia, e lo sbaglia, 64-62, Siena sta commettendo l'errore di Roma, ovvero, quello di sbagliare tantissimo dalla lunetta, percentuale di Siena, 50%, 7 su 14, dalla lunetta, più 2 Roma, 40 secondi, e Roma si gioca qui il pallone della partita a questo punto, vediamo un po' il raddoppio di Ortener su Taylor, che va in 1 contro 1 con Brown, c'è il fallo, c'è il fallo, la spinta di Bobby Brown e Taylor andrà in lunetta, con i tiri liberi, il primo va, e Roma ha un possesso pieno di vantaggio, 65-62, 34 secondi, 42 centesimi al termine, Jordan Taylor, un rookie in questo campionato, davvero sorprendente, segna Taylor, 66-62, più 4, e questo è il pallone decisivo per Siena, deve segnare la Montepaschi, anche a te, da 3 punti, cortissimo, e c'è il rimbalzo di Bobby Jones, rimbalzo di Jones, 25 secondi, Roma in mano alla partita, una partita che sembrava sepolta, su più 12 Siena, fallo di Chiararete, su Jordan Taylor, tiri liberi, intanto Taylor sbaglia il primo tiro libero, però, 21 secondi, 25 centesimi, però sono due possessi di vantaggio per la Virtus, 66-62, davvero una squadra che non mola mai questa Virtus Roma, vediamo Jordan Taylor con il secondo, segna Taylor, 5 di vantaggio, pensate qua, il massimo vantaggio per Roma questo, 67-62, i tiri liberi di Taylor, stanno facendo la differenza in questo momento, 18 secondi, Bobby Brown a tutto campo, a panza, ma c'è la stoppata di Noval, e finisce qui, il rimbalzo di Datone, e il paladiziano è in tribuna, tutti in piedi al paladiziano, per questa Virtus immenso, davvero, dobbiamo dirlo, Siena si arresa, non va più in pressione, finisce la partita, 1-1, tra Roma e Siena, ma c'è la Virtus Roma, fatte Montepaschi Siena, 67-62. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.